Diciottesima domenica del Tempo Ordinario, la liturgia della parola di questa domenica si apre con la proclamazione dell'apertura del libro del Coelet che dice vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità, tutto è vapore, dice la lettera del testo ebraico, tutto si sfalda, dura poco. Il rischio che abbiamo noi uomini di vivere è di andare appresso a cose vane, che non hanno consistenza, che non hanno durata. Tutte le fatiche dell'uomo si possono risolvere in un nulla, in una delusione. È qualcosa di molto importante da considerare, il rischio che abbiamo di vivere di cose piccole e mai fare il salto nelle cose grandi, quelle che durano, quelle che vale la pena di vivere. Ecco, a questo fa da contraltare il Vangelo di Luca che nel suo dodicesimo capitolo racconta di quando un uomo interrompe Gesù mentre sta parlando. Gesù sta predicando e c'è un uomo che gli dice cosa deve dire lui, cioè anziché continuare con i suoi discorsi Gesù dovrebbe occuparsi di fare giustizia rispetto a suo fratello che non divide con lui l'eredità. Ammesso e non concesso che si tratti di un'ingiustizia, quello che chiede questo uomo è che Gesù tu parli, parli, ma di piuttosto queste cose. Di che mio fratello che è ricco, divida con me la sua ricchezza, la sua eredità. E Gesù risponde, oh uomo, chi mi ha costituito giudice e mediatore sopra di voi? Spesso si legge questo testo come una de-responsabilizzazione da parte di Gesù che di, come si dica, che centro io con queste cose? No, dobbiamo anche un po' pensare, chi ha costituito giudice e mediatore sopra di noi? Il Signore Gesù? L'unico che verrà a giudicare i vivi e morti è proprio Lui. Bene, se mi chiedi di giudicare, chi è che mi ha mandato a emettere delle valutazioni, emettere del discernimento? Allora, se volete che facciamo giustizia, facciamola fino in fondo, facciamo una distinzione seria, facciamo un discernimento e Gesù dice fate attenzione e tenetevi lontano da ogni cupidigia. Perché? Ce ne sono varie, non ce n'è solamente una. È cupidigia quella di un uomo che non divide con suo fratello la sua ricchezza? Sì, ma è anche cupidigia quella di chi denuncia davanti a tutti suo fratello. Ha tanto amore al denaro da poter svergognare pubblicamente il fratello? Ecco, il problema è che questi due uomini sono identici. Uno non divide i soldi con l'altro, l'altro denuncia il fratello per i soldi. Entrambi hanno la stessa mentalità, i soldi sono più importanti del fratello, cioè sono più importanti i beni del rapporto con un fratello. Uno non glieli dà al fratello, l'altro lo denuncia per i soldi. Quante cause nelle famiglie per motivo di denaro? Quante volte si decide che è più importante avere giustizia economica piuttosto che salvaguardare l'amore fraterno? Questo purtroppo non c'è famiglia che non abbia memoria di questa tristezza. Ecco, a questo punto Gesù fa l'esempio di questo uomo che a un momento ha un raccolto enorme e cosa fa? Il giorno in cui finalmente ha avuto un raccolto enorme si mette a lavorare curiosamente. potrebbe godersi la generosità che Dio gli ha accordato, no? Ma cosa fa? Demolisce i magazzini, li costruisce di più grandi, poi raccoglierà tutto il grano e i suoi beni e poi, solo dopo, anima mia è a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà. Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce presso Dio. Questo uomo tenta di accavarrare e non arricchisce davanti a Dio, cioè propriamente Gesù non invita noi ad essere senza niente, ma a entrare nel vero senso delle cose, cioè arricchire davanti a Dio, sapere che la nostra vera ricchezza è presso il cielo, il nostro vero tesoro, è il nostro destino eterno, è la nostra eternità, è la nostra grandezza. Arricchire davanti a Dio vuol dire arricchire secondo cose che valgono al cospetto di Dio, che reggono il suo sguardo. Questo uomo si vede richiesta la vita. Che cosa vuol dire che ti viene richiesta la vita? Ti viene richiesta semplicemente quando muori? No. Ti viene richiesta pure la vita quando può capitare che la vita ti faccia una domanda più seria delle altre, che avvenga una malattia, avvenga un momento, un lutto. Ci sono quei momenti nell'esistenza in cui Dio ci chiede conto della nostra vita. Che vita hai? Anche chi abbiamo intorno può al momento valutarci e misurarci. Ho avuto un problema e ho visto che tu non c'eri, ho visto che tu non eri all'altezza del mio problema. Ti ho chiesto che uomo eri, che consistenza avevi. La vita spesso ci chiede ma chi sei? Chi sei davanti ai fatti? La vita ci interroga molte volte in maniera molto seria. Arricchire davanti a Dio, cioè farsi ricchi di qualcosa che ha stabilità, che ha autenticità, che non è vapore di vapore, come vedevamo nella prima lettura. Vivere per qualcosa che vale. A cosa ci invita questa liturgia? Celebriamo la liturgia di questa domenica puntando a ciò che veramente conta, ciò che veramente resta. Quando la vita viene interrogata, che cosa resta della nostra vita? Che cosa sta in piedi? Cosa veramente vale? Un giorno tutti tireremo una riga, per un fatto o per un altro, o anche semplicemente per il fatto che arriva il nostro momento. E ci chiederemo, ma di cosa abbiamo vissuto? Valeva la pena? Aveva sostanza? E normalmente finiamo per chiederci se c'è qualcuno felice a causa nostra. Questa è la vera domanda che ci facciamo. Se c'è qualcuno che è felice che noi siamo stati dalle sue parti. Ecco, questo è arricchirsi. Noi non dobbiamo essere poveri, dobbiamo essere ricchi, ma di una ricchezza vera. Arricchire al cospetto di Dio. Pensare che questo uomo ha avuto un'eredità e non la divide col fratello. Pensare che quest'altro uomo ha avuto un grande raccolto e non ha pensato ad amare per mezzo di quel raccolto. Ha pensato a accumularlo, possederlo, averlo e poi goderselo. Questa è una visione mediocre dell'esistenza, che non è assolutamente all'altezza della nostra altissima dignità. Tornando al caso dei due fratelli, la domanda che questo testo rispetto alla vanità della vita ci fa è cosa è più importante, un'eredità o un fratello? Dalla risposta che diamo siamo valutati. Se è più importante l'eredità noi viviamo di qualcosa di veramente piccolo. Più importante sicuramente è un fratello. Guadagnare un fratello, si dice un altro passo del Vangelo. Guadagnare un fratello vuol dire riconquistare la comunione con un fratello. Questo è più importante che non tutti i soldi di questo mondo.